Gabri non preoccuparti noi adesso andiamo con Edo sull'altalena c'è la mamma, c'è Edo, c'è la zia Rita, c'è Elvira guarda che bella Elvira, bellezza questo è un regalo che ti ha fatto Sanni, la cagnolina Sanni dici grazie la cagnolina Sanni? di grazie? troppo troppo coinvolto, ti piace? bella? vrum vrum prima di tutto ringraziamo medici, dottori, os, infermieri e soprattutto chi sta sulle ambulanze ma rendiamo anche grazie al valoroso corpo dei vigi del fuoco e così avviamo il concerto completo il mio amore è tutto grigio, vai Marana, del mio cuor oh ma guarda che belle foto di queste con Edo, Gabri Ferragni fra Ferragni, Paloma, Chiara Ferragni è tutto un Ferragni ciao